ciao salve a tutti oggi ti porto a vedere come si condividono i file nella rete locale tramite una usb o un hard disk esterno lo collegate o attaccate alla porta usb di qualsiasi router che avete a disposizione tramite io faccio il tutorial sull'home life hub di wind il modem fdth di wind alla prima cosa bisogna configurare il computer dobbiamo andare in pannello di controllo pannello di controllo rete internet c'è trovato una serie di delle condivisioni modifiche in posizione di condizioni avanzate dobbiamo scegliere rete indivisione di rete privato sul profilo privato attivare attivare e condivisione di file stampanti in caso vi interessa fatto questo ok questo è il flusso non c'è bisogno andiamo sul nostro modem ci colleghiamo andiamo su network servizio usb andiamo condizioni file lo attiviamo andiamo sul media center lo attiviamo ok lasciamo così questo è il print server non ci interessa possiamo anche attivare l'opzione 3.0 se abbiamo una porta 3.0 abilitata compatibile qua andiamo a praticamente gestire il tutto allora aggiungi nuova condivisione andiamo qua scegliamo l'hard disk in questione qui facciamo naviga se andiamo su qui praticamente è la visibilità e la visione root cioè di tutta quanto l'hard disk o l'appennetto usb che abbiamo collegato col modem ok perciò vedrete qualsiasi cosa che c'è dentro l'hard disk se invece volete selezionare le vostre cose tipo se avete una cartella per i film una cartella per le foto una cartella per la musica potete scegliere quale far vedere in caso volete fare più di una cartella ma escludere una soltanto magari fate siccome non si può scegliere tutto insieme dovete scegliere una alla volta fare così fare ok e poi riaprire una nuova schermata con l'altra impostazione io faccio così totale nominiamo si nominiamo la regola e lasciamo pubblico perché sicurezza non funziona ve lo dico già ve lo dico che non funziona purtroppo c'è un bank nel modem non ti permette di mettere una password ho provato e non funziona allora fatto questo andiamo in andiamo su vabbè su per ente esplorare risorse andiamo su rete allora vedi condizioni file disattivate alcuni dispositivi è compito della rete potrebbero non essere visibili dobbiamo fare attiva di rete eccolo qua allora questo vabbè questo è il televisore questo è il computer ora qua ci vuole un po di tempo metto un attimo in pausa perché prendete deve inizializzare il tutto ok praticamente abbiamo fatto questo e poi andiamo su questo sarebbe il router modem entriamo dentro tramite media player possiamo vedere i file multimediali immagini video foto eccetera eccetera andiamo qua andiamo qua tipo musica io adesso non ho niente video ecco questi sono i miei i miei video come vedete ok poi praticamente abbiamo anche le immagini ok le possiamo cancellare rimettere eccetera eccetera ok allora vediamo un attimo facciamo un esperimento come vediamo proviamo a togliere una un'immagine se te lo fa fare e di possiamo fare play questo va bene essendo una praticamente è una foto non ti permette non è un video facciamo elimina e di qua possiamo vedere se eliminare dal catalogo multimediale e dal computer oppure elimina solo dal catalogo multimediale facciamo così oppure questo ok il test è finito ok così vabbè il tutorial è finito spero di essere stato utile commenta il video commenta il video commenta il video e iscrivetevi al mio canale ci vediamo al prossimo tutorial ciao